Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it Oggi siamo qui per proporvi un confronto, una sfida tra due phablet ovvero l'HTC One Max di casa HTC con display Full HD da 6 pollici e Acer Liquid S2 di casa Acer sempre con display da 6 pollici Full HD Dispositivi che ho provato in questi giorni, entrambi mi hanno convinto a entrambi nelle loro recensioni singole ho dato un buon voto, un parere positivo e proprio per questo ho deciso di metterli a confronto visto che entrambi mi hanno praticamente convinto quasi alla stessa maniera ho deciso di metterli a confronto quindi partiamo diciamo con la nostra solita panoramica del dispositivo partiamo con HTC One Max abbiamo qua davanti la fotocamera anteriore da 2.1 megapixel uno dei due speaker stereo molto potenti boot sound sensori di luminosità qui sopra abbiamo la porta infrarossi il jack da 3.5 per le cuffie da questa parte abbiamo questo pulsante con questa levetta che serve per andare ad aprire la parte posteriore dell'HTC poi andremo a vederla da questa parte abbiamo il bilanciere del volume e il tasso blocco sblocco qui sotto i due tassi soft touch non so se riesco a farvi vedere è nero, è comunque home è back qui l'altro speaker che vi dicevo l'altro speaker stereo ingresso micro usb per la ricarica e lo scambionato con il pc il microfono parte posteriore abbiamo la fotocamera da 4 ultrapixel di HTC con il flash led e il sensore di impronte digitali per appunto andare a sbloccare il telefono con le impronte digitali andiamo ad aprire la back cover appunto andando ad agire come potete vedere su questa levetta questa parte è in alluminio quindi molto bella altata come anche gran parte del telefono abbiamo una batteria non removibile da 3300 mAh veramente un'ottima autonomia la batteria vi consente di arrivare a sera anche con un uso molto molto intenso quindi assolutamente promossa la batteria di questo One Max ingresso per la micro sim e l'espansione di memoria micro sd infatti è possibile espandere la memoria fino a 64 memoria interna da 16 gigabyte quindi vi ho detto la batteria come potete vedere anche se si può aprire la parte posteriore non è rimovibile andiamo a richiudere la back cover come vi ho detto in alluminio ah non vi ho fatto vedere qui questi questi connettori per una eventuale dock andiamo a chiudere andiamo a chiudere bene cosa muovi vi parlo di dimensioni di questo HTC poi vi dico l'hardware abbiamo 164.5 per 82.5 per 10.3 mm di 217 grammi però devo dire che è comodissimo la portare in giro nonostante appunto sia abbia gran parte sia gran parte fatto in alluminio però devo dire che questo telefono è proprio bello anche da tenere in mano non è affatto pesante si può portare tranquillamente anche nella giacca quindi è comunque un telefono diciamo molto comodo anche nell'uso quotidiano chiaramente è un 6 pollici quindi va usato con due mani questo lo do per scontato quando parlo di un fablet da 6 pollici qual è il cuore di questo HTC One Max? cosa lo muove? un processore quad core snapdragon 600 da 1.7 GHz una GPU adreno 320 e 2 GB di memoria RAM quindi devo dire assolutamente un hardware molto molto potente passiamo al Acer Liquid S2 abbiamo qui la capsula auricolare con questa praticamente questa forma ad arco molto originale fotocamera anteriore da 2 megapixel i 3 tasti soft touch, multitasking, home e back qui sopra abbiamo l'ingresso da 3,5 per le cuffie da questa parte abbiamo il bilanciere del volume i due cassettini per la nano sim e l'espansione di memoria micro SD infatti anche qui abbiamo 16 GB di memoria espandibili qui l'ingresso micro USB per la ricarica e lo scambio dati con il PC qui sotto il microfono e l'altro microfono per la riduzione del rumore da questa parte abbiamo le due casse stereo con Dolby Digital da questa parte abbiamo la fotocamera la 13 megapixel con questi 4 flash LED intorno una soluzione a mezzo a parere molto originale logo Acer e logo Dolby Digital appunto come vi dicevo per l'equalizzazione penso di avervi fatto vedere tutto parte posteriore qui invece in policarbonato a differenza del One Max non è possibile aprirlo abbiamo una batteria da 3.300 mAh anche qui devo dire che anche qui veramente molto performante si riesce tranquillamente a coprire la giornata lavorativa senza nessun tipo di problema dimensioni abbiamo 166 x 86.2 x 8.99 mm 229 grammi un po' più pesante del One Max devo dire che questo peso in più si sente diciamo da un senso di robustezza maggiore rispetto al One Max però nell'uso quotidiano un po' si sente scusate non vi ho fatto vedere qui stavo dimenticando il tasto blocco sblocco con l'ingresso da 3.5 per le cuffie onestamente come ho anche detto nella recensione il tasto blocco sblocco qui secondo me è posizionato in maniera molto scomoda perché su un display da 6 pollici ogni volta dover andare a fare questo gesto o cambiare l'impugnatura per andare a accendere il telefono secondo me è molto scomodo vi dicevo tornando alle dimensioni questo peso in più si sente nell'uso quotidiano perché comunque è un 6 pollici quindi è abbastanza pesante devo dire che preferisco di più diciamo i 217 grammi del One Max perché diciamo è molto più comodo dell'uso nell'uso quotidiano cosa muove questo HTC questo Acere Liquid S2 quello è il cuore un processore quad cord a 2.2 GHz 2 GB di memoria RAM quindi ha un hardware praticamente molto molto simile andiamo a sbloccare i due dispositivi quindi tasto laterale per l'HTC e tasto superiore per il One Max entrambi adesso vi faccio rivedere c'è la possibilità di avere dei collegamenti rapidi sulla home eccoli qua potete vedere modalità di sblocco differente qui bisogna lanciare in alto il lucchetto qui a fare uno slide verso destra per sbloccare i due dispositivi su entrambi sto utilizzando il loro launcher quindi non ho installato un nuovo launcher come spesso faccio vi parlo della fluidità di HTC One Max che diciamo è assoluta non c'è il minimo impuntamento devo dire che l'interfaccia HTC è eccezionale io ho bloccato il Bink Feed perché a me non piace quindi c'è la possibilità di andare adesso ve lo riattivo per l'occasione quindi con questo gesto c'è la possibilità dove ho finito Bink Feed scusate dove è finito Bink Feed eccolo qui lo spostiamo vediamo subito qua pensavo ok adesso ho impostato come pagina eccolo qua sì c'è una pagina in più scusate eccolo qui io chiaramente l'ho disattivato perché a me non uso Bink Feed questo chiaramente è l'applicazione proprietaria di HTC appunto per per diciamo per tutte le notizie RSS andiamo a ridisattivare Bink Feed ok ho imposto la home in questa maniera qua ok dicevo grande fluidità al massimo per quanto riguarda HTC One Max devo dire anche nel drawer non c'è il minimo non c'è il minimo impuntamento insomma devo dire che l'interfaccia proprietaria di HTC è sicuramente è sicuramente una delle migliori appunto per la per la fluidità niente da dire fluidità massima andiamo a vedere invece la la fluidità di HTC di Liquid S2 qui invece devo dire che abbiamo ho riscontrato in questi in questi giorni di utilizzo delle del micro lag niente di drammatico nonostante io abbia ricevuto un aggiornamento settimana scorsa mi pare però devo dire che c'è sicuramente un miglioramento però ogni tanto non so se avete notato c'è un demico lag sia qui che nella che nel drawer però devo dire che insomma anche non è nulla di impossibile non è nulla che si note diciamo anche perché comunque non sono micro lag che vengono che si propongono quotidianamente però ho notato che quando il telefono è molto sotto stress magari dopo una lunga navigazione internet dopo quando il punto di tempo si surriscalda ho notato che ci sono questi ci sono questi micro micro lag però nulla di nulla di impossibile vi faccio vedere appunto come HTC come ACER praticamente utilizzi Android Stock infatti anche qua potete vedere vi faccio vedere le impostazioni sono patente da Android Stock abbiamo la versione 4.2.2 di di Android scusate un secondo ok 4.2.2 di Android quindi ACER si limita a rivedere le le proprie le proprie icone ad aggiungere qualche software proprietario ma nulla di più invece prendendo un attimo HTC qui invece abbiamo la Sense la la 5.5 quindi la personalizzazione di HTC è molto più pesante ma nonostante questo è veramente un campione di fluidità non vi posso fare ragazzi la prova delle telefonate perché la nano sim che utilizzo che ho utilizzato per il liquida S2 attualmente lo sto utilizzando in un altro telefono quindi diciamo non posso farvi la prova telefonica però dire che entrambi hanno un'ottima qualità ci sentono bene noi sentiamo molto bene le persone con cui parliamo e tanto bene ci sentono loro fidatevi sulla parola per quanto riguarda invece diciamo il viva voce è molto meglio chiaramente sull'HTC One Max perché le due casse stereo come anche poi andremo a sentire dopo nella prova della musica sicuramente fanno tutta la differenza di questo mondo nonostante anche il liquida S2 abbia le doppie casse stereo però le casse stereo di HTC One Max sono decisamente superiori vi parlo di schermo quindi riprendo l'HTC One Max abbiamo un 5.9 pollici super LCD full HD con risoluzioni 1920x1080 373 ppi veramente molto molto definito vedete io ve lo avvicino molto alla videocamera e non si vedono non si vedono i pixel andiamo ad aprire il nostro solito se ci riusciamo ecco vi ho appena parlato di fluidità e il One Max decide di non funzionare più ecco di qua ragazzi scusate se ho interrotto il video ma non so cosa era successo praticamente il One Max in questa prova ha deciso di bloccarsi quindi ho dovuto fare un veloce riavvio cosa che non mi era mai successa in questi giorni di prova non ve l'ho fatto vedere ma ve lo dico quindi ho dovuto riavviarlo non so come mai vi volevo aprire il display test per parlarvi del display qui andiamo a vedere la qualità del display ecco qui qui abbiamo il rosso qui abbiamo il verde blu bianco grigio nero veramente molto nero questo questo super lcd di di htc giallo magenta ciano ok andiamo a vedere gli angoli di gli angoli di visione veramente ottimo guardate come si legge perfettamente la scritta al centro del display quindi anche gli angoli di di visione sono molto buoni andiamo a vedere le nostre classiche foto qui di test molto molto bene perfetto guardate come veramente si vedono molto bene le foto possiamo tornare indietro andiamo a vi parlo di del display del liquid s2 abbiamo qui invece un display full hd 6 pollici ips con 1920x1080 di risoluzione qui abbiamo un ppi un po' più alto 385 devo dire che anche qui il display è veramente eccezionale veramente merita tantissimo il display di questo liquid s2 andiamo a fare qui la prova con display tester andiamo a vedere anche qui i nostri i nostri colori abbiamo il rosso il verde il blu il bianco grigio nero anche qua molto neri i neri nonostante anche questo non sia un AMOLED ma un'unità ips il giallo il magenta il ciano torniamo indietro anche qui andiamo a vedere gli angoli di visione anche qui veramente angoli di visione molto buoni anche qui si la scheda al centro si legge benissimo torniamo indietro un fototest anche da questa parte anche qui voglio dire che il display rende veramente veramente tantissimo guardate che bella questa macro anche questo con appunto un moto con tutto questo nero veramente veramente un'ottima entrambi un ottimo display io li metto quasi allo stesso livello devo dire che entrambi i display mi hanno mi hanno convinto vi passo vi passo passo scusate passo a parlare di parte multimediale scusate la lingua mi si è mi si è intrecciata quindi passiamo subito a parlare della fotocamera fotocamera da 4 ultrapixel devo dire che è una fotocamera che a me personalmente non mi ha convinto monestamente HTC non capisco perché si sia diciamo indirizzata verso queste fotocamere spacciandole per ultrapixel a me onestamente ho visto anche le foto fatte con questo con questo questo one max mi hanno convinto poco si effettivamente con in condizioni di poca luce probabilmente l'ultrapixel fa qualcosina in più però onestamente io preferisco preferisco una una buona 10-12 megapixel piuttosto che questa ultrapixel comunque prendiamo il nostro amico android usiamolo usiamolo come come soggetto ok scatto scatto molto veloce un secondo che la rifacciamo tolgo tolgo il flash ok eccola qui questo è il risultato devo dire che il risultato non è non è male però messa poi sul computer onestamente queste foto mostrano un po' tutti i loro limiti ok torniamo torniamo indietro facciamo la la prova sempre con facciamo la prova della foto della macchia fotografica con il liquid s2 vediamo se riusciamo a mettere a fuoco non ci riesco ok forse ora si scusate ma non riesco a mettere a fuoco oggi sta capitando di tutto non riesco a mettere a fuoco so come mai proviamo a uscire e a chiudere tutto vediamo se eccomi qui ragazzi scusate oggi questa recensione è la recensione dei blocchi improvvisi ho dovuto riavviare anche il liquid s2 perché non capivo perché non sono uscito ancora capito perché la fotocamera non mi metteva a fuoco niente ce l'abbiamo fatta questa è la è la foto il sudato della foto non non male anche qui non capisco perché oggi il liquid non mi metteva a fuoco il soggetto mettiamolo via devo dire a parte i due inconvenienti sui due riavvi devo dire che il bello della diretta quindi comunque per quanto riguarda le fotografie è meglio sicuramente il liquid s2 io ripeto preferisco un'ottima 12-13 megapixel piuttosto che i 4 ultrapixel di HTC per quanto riguarda la parte multimediale vi passo a parlare di andiamo a vedere i nostri soliti video di test facciamo partire qui il video dell'elicottero passiamo il volume chiaramente chiaramente vediamo il video su 6 pollici è sempre molto gratificante avete visto come sono passato da una parte con il video senza il minimo appuntamento questo invece 120p perfetto stessa prova con il liquid s2 test video facciamo battere l'elicottero siamo al massimo sentite che differenza di audio già qui rispetto al one max andiamo avanti anche qua veloce molto bene 720p perfetto molto bene vi parlo ora di musica andiamo ad aprire l'applicazione di HTC andiamo a fare molto comoda la ricerca la ricerca veloce scusate facciamo partire dall'inizio ok chiaramente stessa stessa canzone sul liquid ok insomma non serve aggiungere altro avete sentito la clamorosa differenza di suono l'HTC l'HTC one max insomma con le sue due casse stereo qua davanti offre un'esperienza audio superiore nonostante la possibilità di equalizzazione qui con la l'applicazione scusate Adobe Digital però insomma le casse di HTC one max sono molto molto più potenti e performanti sia nel volume che nel appunto nella riproduzione della musica vi parlo di browser web quindi andiamo su entrambi su The Verge vediamo se riusciamo a farlo aprire in contemporanea su entrambi qui mi ha preso la versione mobile adesso richiediamo subito la versione normale ok perfetto caricato su entrambi andiamo a vedere la fluidità devo dire che la fluidità è buona su entrambi forse anzi senza forse diciamo un mezzo punto in più su HTC one max perché devo dire che mi sembra leggermente più fluida sul appunto sul dispositivo di HTC comunque vedete che le classiche GR sono Pinchin Pinchin qui ho premuto forse una news e riapriamo the verge qui comunque avete il pan molto molto bene senza nessun tipo di impuntamento facciamo la stessa cosa da questa parte guardate anche qui il pan ecco qui guardate pan molto 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 bene su entrambi diciamo che navigazione web è promossa su tutti e due usciamo e andiamo a fare le conclusioni allora a parte i due riavvi che ho dovuto fare su entrambi i dispositivi qui perché non si apriva più nessuna applicazione qui perché la fotocamera non so perché non mi metteva a fuoco il soggetto devo dire che nel mio uso diciamo che ho fatto di entrambi i telefoni non mi era mai capitato spesso capita che nelle recensioni forse perché appunto si aprono velocemente le applicazioni il telefono è molto sotto stress quindi può capitare che diciamo capitano queste cose però vi garantisco che su entrambi nell'uso quotidiano non ho avuto di questi riavvii anzi devo dire che entrambi si sono entrambi i telefoni si sono si sono comportati molto molto bene detto questo sono due terminali abbastanza simili nel senso non vedo un clamoroso vantaggio di uno rispetto all'altro se devo dire la mia personalissima dalla mia personalissima giudizio io tra i due diciamo ho una leggera preferenza per il One Max perché è un po' più leggero i materiali sono un po' più belli per quanto riguarda la costruzione la fluidità generale è migliore però diciamo che comunque anche il Liquid S2 diciamo non sfigura affatto è proprio una mia questione forse più estetica perché preferisco più il One Max però comunque il Liquid S2 ha un ottimo comporto multimediale ha un'ottima fotocamera decisamente superiore perché la fotocamera del Liquid è superiore a quella di One Max entrambi avete visto che quei video si comportano molto bene l'unica cosa appunto le due cose che appunto non mi piacciono del Liquid S2 sono la fluidità generale che nonostante l'aggiornamento che ho ricevuto settimana scorsa diciamo non è ha migliorato qualcosa ma comunque ci sono sempre dei micro non so se li avete visto adesso c'è stato proprio adesso mentre mi sono mosso un lag questa è una cosa che onestamente se uno monta Android Stock sul proprio terminale secondo me non dovrebbe succedere e poi una cosa che a me proprio non piace esattamente è la disposizione del tasto blocco sblocco qui in alto che su un display così su un dispositivo così grande è veramente scomodissima io ho avuto anche volo di parlare con alcuni esponenti di Acer e gli ho detto che secondo me sarebbe così a titolo mio appunto di parere di appassionato sarebbe corretto implementare il tasto home laterale come è fatto qui come c'è appunto qui su HTC perché comunque è molto più comodo il blocco sblocco del telefono o tanto ormai lo fanno lo fanno tutti implementare il toc toc per attivare e disattivare il display ok conclusioni ripeto il mio la mia la mia preferenza va per HTC One Max ma è una cosa assolutamente personale entrambi i dispositivi secondo me sono sono validi sono lì se la giocano poi chiaramente entra in ballo il gusto il gusto dell'utente però sono due dispositivi che io vi consiglio entrambi quindi per questo video confronto tra HTC One Max e Acid Liquid S2 è tutto un saluto da Shido